ciao a tutti ma davvero ma questa vocina così sei un po raffreddata wow vieni qua facciamo vedere da che bel posticcino come si vede bello il mare mi hai visto che cos'è questo è il castello di aragonese aragonese di ortona ok andiamo alla vedere per bellissima volta bellissima volta sì una volta no penso che sia la terza quasi quasi però lo andiamo a vedere per fare due passi perché oggi non era bruttissimo il tempo e ci siamo un po stufati del tempo brutto vero ok andiamo dove è sparito sto castello sono rimaste solo le mura sono solo le mura wow però è bello perché sta sul mare è vero che sono rimaste solo le mura non c'è il tetto dai adesso lo vediamo dove ti sei arrampicata oh oh è mia tanta energia oggi vero 3 2 1 è saltata ciao dobbiamo far vedere che bella vista qua guarda questa è una piccola finestrina di questo wow si vede la pista ciclabile e si vede il mare che bel colore che c'è il mare oggi vero perché il cielo è molto carino sia aperto perché da noi non so da voi però da noi è stato un po tristi il tempo questi giorni bello si è brava è mia per le foto hai trovato un buco dai no è trogato un buco e ci c'è un altro buco la un po più grande e no e no non dobbiamo passare e chi vuole passare passa vuoi passare e passa andiamo a vedere questo posto misterioso che c'è a vedere dai cammina dai cammina dietro di te forse meglio adesso hai paura wow vieni vieni dietro di me wow è l'ingresso guarda è l'ingresso che ha perso oddio che sporciccia qua già ti fa l'educata chi? che butta le carte da tutte le parti hai visto? allora non c'era niente di pauroso andiamo a vedere l'altro lato è chiuso è chiuso non c'è niente da vedere lì sì molto sicura andiamo calma che si vede? oh si vede il porto il porto e il mare le barchette dai vieni di qua di qua di qua beh mi c'ha paura di tutto mi c'ha paura di tutto attenta eh che bella vista da qui wow tu hai notato l'erba giusto? giusto andiamo va terribile terribile sei una piccola terribile che è questa? che è? si è girato da solo 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 gioco giochetto con Emi che ha pensato che queste erano caramele invece sono cigomme e invece di masticarle una l'ho ingoiata ma la devo buttare quest'altra? no dopo quando ti stupi che non c'ha più già pure la butti allora vediamo che cos'è questo? che cos'è questo? ma quello che guarda tu devi tu devi provare a fare tipo jackpot no? si ma per cos'è? si e quando le parte più uguali aspetta ecco aspetta ma no così certo che così esce se le colpisci spostiamole così la marina si ok no ancora no sfiga niente jackpot allora stavi per farla è buono sai perché? si è roto eccolo dove è la pallina mia? dove? ho fregato questo gioco è un freghino guarda ah ho fatto jackpot dove è la mia pallina? funziona o non funziona? aiuto i miei cibi è un freghino è un freghino no l'ho ringogliato per l'altra invece di mangiare come se ne sta a mangiare? ma non si fa ma non si fa ah ce l'ha avuta ce l'ha avuta la mia sì la mia c'è avuta ci sono la mia eccola è blu allora questo non la devo ingoiare se ti ricordi si ok bellissimo è già fino bellissimo è già fino freghino ma che succede se la ingoio? niente ma non ci fa ok giochino freghino